Noi stiamo arrancando, le famiglie patiscono sulla loro pelle, la crisi, le aziende sono in difficoltà, allora chiediamoci in questo grande bailame qual è l'unico sistema economico, sociale, produttivo, di valori che può competere con l'Europa e che può competere nel mondo. L'unico sistema è il sistema padano, l'unico modello è il modello padano, l'unica via di uscita è la padania.